Lascio giudicare i trevigiani, se il sindaco sia promosso o bocciato in questo primo anno, io sono di parte, però penso che faccia a gara con Pisa Pia per la peggior gestione della città fra Treviso e Milano. E come Lega ci stiamo riattrezzando perché l'anno prossimo ci sono le elezioni regionali, quindi Zaia non si tocca. Un 1-2 che non lascia spazio a commenti, quello del segretario nazionale della Lega Nord, anche a chi ipotizzava la corsa del sindaco di Verona Flavio Tosi per le elezioni regionali di primavera. Se abbiamo come governatore uscente il governatore più amato d'Italia, mi sembrerebbe bizzarro. Poi abbiamo la fortuna di avere non uno, ma due leader in Veneto che sono Zaia e Tosi, però c'è spazio per tutti, il mondo è grande, quindi non è che necessariamente tutti dobbiamo fare il governatore del Veneto. Messaggio chiaro ai veronesi e in genere alla corrente tosiana che nella marca peraltro di fatto è uscita allo scoperto, non portando la propria solidarietà a Fulvio Pettenà, leghista della prima ora, sospeso dopo un rischio espulsione per aver criticato Tosi. Dal canto suo l'attuale governatore del Veneto commenta così l'investitura ufficiale, avvenuta in diretta ieri sera durante il collegamento da Rosà per il Focus, dove non è mancato un passaggio sullo scandalo del Mose. Ci vorrebbe poco andare nelle piazze e dire noi non ci siamo, è colpa vostra, però è tanto vero che abbiamo anche un senso di responsabilità davanti ai Veneti, che è quello del governo, della buona amministrazione, e di traghettare il Veneto fuori da questa situazione. C'è un presidente che ha rinunciato ad ogni carriera all'interno del partito, che ha dedicato tutta la sua vita e le sue giornate a risolvere i problemi dei Veneti, e i Veneti che sanno che noi abbiamo preso in mano una regione che comunque qualche problema ce l'aveva, oggi è la regione più virtuosa, che ha i conti in regola e che comunque apre gli ospedali di notte, tutti copiano quello che stiamo facendo noi. La Lega oggi rappresenta l'elemento di garanzia, di continuità e di discontinuità rispetto a quello che molti chiedono, tutti dicono, ma davanti a questi fatti ci vuole discontinuità, la rappresentiamo noi nel momento in cui non siamo coinvolti da questi fatti.